Ciao! Cos'è Fra DeFrensight? È la mia attività, uno studio di consulenza decisionale e supporto alla crescita. Fra, che vuol dire? Devi prendere una decisione importante, critica, delicata, per le sue ripercussioni su di te o sulle persone che ti circondano, per la tua azienda, per un ufficio di cui sei responsabile, oppure per la tua professione, magari per il tuo laboratorio, magari sei un artigiano, oppure semplicemente per la tua vita, per le tue relazioni, per la tua famiglia, per te stesso. E non ne vengo a capo, mi dà un consiglio. Allora, il mio obiettivo non è dirti cosa devi fare. Il mio obiettivo è aiutarti, imparare cosa puoi fare per arrivare a decidere per la soluzione migliore, nel tuo caso, in sintonia con ciò che tu sei e ovviamente in relazione al contesto. Quindi io non mi sostituisco a te nella decisione. Io ti aiuto semplicemente a trovare il modo per decidere. Perché? Perché il processo decisionale è qualcosa che si può studiare, allenare, applicare, per arrivare da sé alle proprie decisioni. Va bene. È la crescita personale. Perché? Perché spesso decidere vuol dire crescere. E spesso per decidere bisogna crescere. E naturalmente capita che decidendo, decidendo, decidendo si stia crescendo. Quindi le due cose sono intimamente le case. Cosa intendiamo per crescita nel senso qualitativo? No, ovviamente, non mi permetterei di sicuro. Ma più che altro di aiutarti nel portare avanti un percorso che ti ha aiutato ad individuare per te, in relazione alle tue necessità, ai tuoi desideri, al contesto in cui vivi, con una serie di cose che puoi fare per arrivare ad ottenere il risultato che vuoi. Direi che ho dato un'indicazione. Dove mi trovate? Non qui, non su questo canale. Perché? Perché qui io continuerò a parlare di cucina, ristorazione, eccetera. E per non mischiare troppo due argomenti che potrebbero, insomma, non avere sempre molto a che fare, ho creato un secondo canale podcast. Quindi lo trovate facilmente andando a cercare Fradefra Insight. Se avete qualche dubbio su come si scriva, magari perché io lo pronuncio male, ponetemi tranquillamente la domanda che è alla fine di questo audio, che vi darò la risposta. Oppure, se preferite, mi trovate su YouTube, sempre con lo stesso nome. Mi trovate su Facebook, ancora con lo stesso nome, così come su Instagram, su LinkedIn e su Google Map. Tutte queste attività le svolgo sia in presenza sia a distanza, ecco perché sono su Google Map. A questo punto vi saluto nel mio usuale modo. Saluti, baci, abbracci e ci vediamo al prossimo episodio, tornando nuovamente alla cucina e alla ristorazione.